Carpenteria metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, funzionatura e roditura in CNC. Con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Grazie a tutti. Per Caricento il Carnevale è una cosa speciale. Senza ombre di dubbio è smentita. Il successo attribuito al Carnevale in questi suoi primi 30 anni di vita lo si deve anche alla Cassa degli Famili di Cento, sempre vicina a questa manifestazione. 130 novembre 2020. Di Marco Raburi per TC Cento Web TV. Un successo creato e sviluppato in tantissimi anni di lavoro, insieme, sempre beneficio del territorio. La Cassa vicino al Carnevale e viceversa, il Carnevale vicino alla Cassa. Questo è quanto è emerso durante l'intervento del Direttore Generale di Caricento, dottor Ivan Damiano. Nel suo saluto durante la cerimano di presentazione lo scorso sabato dell'edizione 2020, tenuta da moltissimi anni nel Salone di Rappresentanza. Questo per sottolineare il rapporto tra la Cassa di Risparmi di Cento e il Carnevale di Cento. Quindi la Cassa di Risparmi di Cento, che è qui rappresentata ai massimi livelli con il Direttore Generale Ivan Damiano. Un saluto, il Direttore. Fai finta, Ivan, di essere a casa tua. Va bene, grazie. Mi metto qui di fianco così per essere in tema. Caricento c'è, la Cassa c'è. Con questa affermazione che racchiude tradizione, orgoglio, voglia di fare, voglia di collaborare. Vi porto il saluto del Presidente, del nostro Consiglio di Amministrazione. E' benvenuto alle autorità, agli organizzatori, a chi parteciperà al Carnevale e soprattutto ai carristi e alle sezioni carnevalesche, ai quali faccio subito il nostro in bocca al lupo. La storia di Trentennale è importante. In questo Salone mi ha fatto molte conferenze stampa. Stamattina ricordavo che una volta Masevigi mi ha trascinato anche a Milano in una improbabile soffitta di proprietà di una contessa, giusto per dire che al Carnevale le sorprese non mancano mai. Quindi noi siamo felici di ospitarvi quest'anno, ma siamo pronti anche ad altre sorprese. La Cassa c'è, noi siamo go sponsor. Mi fa piacere che il Sindaco abbia ricordato la mostra del Guercino, a chi gli abbiamo voluto dare una manifestazione tangibile del nostro sostegno a questo territorio. Qui nel nostro forziere di banca transita più o meno un terzo dell'economia centese. Questo da tanti anni e noi siamo orgogliosi di difenderlo e cercare di innaffiare le radici per farlo crescere ancora. Per far questo siamo di fianco al Carnevale. Due informazioni, avremo il nostro stand, non perché sia facile parlare di banca durante il Carnevale, ma perché per le famiglie è molto più comodo prendere i gadget per i bambini allo stand piuttosto che non affaticarsi per catturare i lanci dai caresti. E poi avremo la settimana prossima sul sito la possibilità per i nostri correntisti che abbiano una nostra carta di credito, di debito, di poter avere in cambio di un biglietto a pagamento un biglietto gratis. Quindi 16 euro che doniamo ai nostri correntisti è anche un invito per chi non lo fosse di approfittare di questa offerta, anche perché accanto ci sono i servizi molto vantaggiosi della banca. Noi vogliamo continuare in questo percorso, vogliamo essere di fianco al territorio, vogliamo essere collaborativi e cercare di dare sempre maggiore impulso a quell'economia, e anche il nostro concittadino, meglio diceva, tra impulso anche dal Carnevale. Quindi benvenuto, in bocca al lupo a tutti, buon Carnevale, in onore di Ivano oggi ho voluto indossare una cravatta rossa. Confermando poi durante la nostra esclusiva intervista come il Carnevale sia oramai una manifestazione indispensabile per cento dal punto di vista economico e dal ritorno d'immagine. Quest'anno con la mostra Emozioni Barocca, il Guercino a Cento inaugurato lo scorso novembre, cade proprio nel bel mezzo del Carnevale con la proroga dal 9 febbraio al 13 marzo. Viste le numerose richieste e prolazioni di visita, tocca il suo massimo splendore. Ma sentiamo il direttore Damiano che ci illustra le novità che la banca mette in campo in questa edizione del trentenale compleanno, illustrando tutte le novità per soddisfare sempre più le esigenze di risparmio e di investimento dei clienti e dei potenziali clienti. Per tutti la Cassa del risparmio di Cento sente proprio in piazza col Carnevale installando un gardebo informativo al fianco del palco centrale, sempre molto visitato. Sentiamo ora le vive parole del direttore al microfono di Marco Rabboni per TC Cento da Web TV online. Assolutamente così, il nostro Consiglio di Amministrazione ha riconfermato l'appoggio a questa manifestazione che non è soltanto il Carnevale, anche se il nome è più importante, si diceva è un brand riconosciuto ormai in tutta Italia, ma è anche un sostegno al territorio, visibilità per tante iniziative commerciali e turistiche. Ci affianchiamo agli altri sponsor, questo territorio è vivo e pieno di iniziative, cinque domeniche importanti, cinque domeniche sottolineate dal rappresentante dell'ASCOM come un momento anche di forte spinta alle attività economiche. Noi facciamo questo mestiere, vogliamo sostenere l'economia di Cento, vogliamo sostenere il Carnevale. E direttore, lei ha un po' anticipato la mia domanda, ha citato che il Cento non è solamente il Carnevale, in questo momento c'è anche il Vercino che la Cassa di Risparmio è al fianco di questa mostra, è importantissimo. Vero, abbiamo voluto anche lì essere di sostegno e d'appoggio fin dalla prima manifestazione di interesse su questa manifestazione, sta andando molto bene, cultura, divertimento e attività produttive, direi che cogliamo tutti gli aspetti migliori, più vivi e più imprenditoriali della nostra comunità. La Cassa di Risparmio di Cento vuole essere questa, viva e imprenditore a sostegno del territorio. Ecco direttore, chiudiamo la Cassa di Risparmio di Cento al Carnevale con un suo stand dove i clienti o i potenziali clienti possono trovare informazioni ma anche qualche gadget come lei ha citato nel suo saluto al tavolo dei relatori. Vero, qualche gadget sicuramente, qualche suggerimento ma soprattutto la vivacità e la intraprendenza del nostro personale per un appuntamento successivo, soprattutto per ricordare, lo ricordo ai già clienti e chi volesse diventarlo, la possibilità di avere un secondo biglietto omaggio, 16 euro, in caso di acquisto del primo biglietto se possessori di una carta bancomata o di una carta di credito della Cassa. Un invito ad appoggiare la Cassa con l'impegno e con la promessa che la Cassa appoggerà fino alla fine e per quanto tutto possibile il proprio territorio. Molto bene direttore, a questo punto non mi resta che augurarle a lei e a tutti, diciamo così, lo staff della banca, buon lavoro. Buon lavoro a tutti e buon carnevale. Noi amici su queste parole, sulle parole del direttore, vi salutiamo e come sempre l'appuntamento con l'informazione del territorio con TC100 Web TV, la Web TV del territorio. Ciao ciao!